Torneremo ovviamente, apriamo un altro collegamento che è quello con Nicole Di Giulio perché non so, dicelo tu Nicole, non so se è ancora in corso o se è terminato l'interrogatorio della figlia 17enne di Barreca. Buongiorno Nicole. Buongiorno Milo, è iniziato ormai più di quattro ore fa l'interrogatorio alla primogenita di Giovanni Barreca, la 17enne accusata in concorso con il padre e con i coniugi Sabrina Fina e Massimo Carandente di aver torturato e poi ucciso la madre Antonella e i fratelli di 16 e di 5 anni nella villetta oramai tristemente conosciuta come Villetta degli Orori ad Altavilla Milicia in provincia di Palermo. è giunto qui, siamo in una località di cui non vi possiamo dire il nome, un istituto penale minorile nel centro Italia, è arrivato qui un team di inquirenti proprio dalla Sicilia, coordinato dalla procuratrice di Palermo che coordina appunto le indagini. La ragazza è invece insieme al suo legale Carmelo Salamone e si tratta proprio di un interrogatorio fiume, un interrogatorio centrale nelle indagini perché dalle parole della ragazza si attende la verità in quanto gli altri arrestati al momento, sia il padre che dice di non ricordare nulla, ha confessato in preda però a mille farneticazioni da una parte e dall'altra i coniugi, i fratelli, i figli di Dio invece dicono di essere estranei ai fatti, dicono di essere stati in quella villetta solo per pregare e ancora lo ricordiamo non sono stati ascoltati dai magistrati, bene dalle parole della ragazza arrestata lo scorso 14 febbraio, si attende di capire chi è stato il regista della mattanza, chi è stato l'esecutore delle torture e anche se ci sono persone esterne, qualcuno che possa aver pilotato da fuori gli atti soprattutto dei due coniugi che forse stavano proprio al telefono con qualcuno all'esterno. Quindi c'è grande...